La Regione si adoperi in analogia come accaduto per la Madonna di Raffaello trafugata dall'Umbria e riportata a Foligno per essere esposta al fine di riportare temporaneamente a Città di Castello l'opera di Raffaello lo sposalizio della Vergine che si trova attualmente a Brera ed è stata dichiarata intrasportabile con decreto ministeriale. E' questa l'interrogazione che il consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani dei Fratelli d'Italia ha rivolto all'assessore alla cultura Fabrizio Bracco sottolineando che a Brera il capolavoro viene tenuto in un ambiente dove si sono verificate infiltrazioni d'acqua e non si capisce quindi l'accanimento nel non voler concedere un suo spostamento da quella sede. L'assessore Bracco ha risposto che lo sposalizio della Vergine è una tavola non un dipinto come quello della Madonna riportata temporaneamente a Foligno ed è questo che sancisce la sua intrasportabilità con legge dello Stato a causa del rischio molto più elevato non tanto per problemi legati ai costi o agli sponsor di una simile operazione. Non è stata concessa, dice ancora Bracco, neanche alla National Gallery di Londra e neppure per la visita del Papa.